Palazzo Edilizia dei Marchesi Calderari è una location ricca di fascino e prestigio e rappresenterà lo scenario incantevole di un matrimonio unico e irripetibile. Superando un alto portone ligno, sormontato dallo stemma della casata, si accede a una splendida corte quadrangolare, unico esempio in Lombardia, dagli scenografici portici a tre arcate, che si affacciano su ciascuno dei quattro lati. I saloni presentano pareti e soffitti a cassettoni ricchi di affreschi dal gusto barocco, sapientemente restaurati. Al piano terra la grande sala verde si affaccia sulla corte e sul giardino nobile, offrendovi una vista straordinaria. Collegate a questa sala vi sono altre sale affrescate e una piccola cappella, dove è possibile celebrare il matrimonio religioso in loco, per poter godere della massima comodità senza scomodi spostamenti. Il magnifico Salone delle Feste, dai pregevoli affreschi e le sette sale che lo circondano, completeranno la disponibilità di questa struttura. Se desiderate organizzare un ricevimento all'aperto, il suggestivo giardino nobile si adatta a ogni tipo di allestimento. Anche la splendida corte si presta per esclusivi ricevimenti esterni in qualsiasi stagione, regalandovi uno spazio intimo e raccolto. Da 180 persone negli ambienti interni e fino a 500 commensali nel parco, qualsiasi sia il vostro stile, Palazzo Calderari sarà la location perfetta per un evento così importante. Palazzo Calderari offre un servizio di catering e bancheting interno per la cura di ogni dettaglio del vostro ricevimento, dalla proposta enogastronomica fino alla progettazione degli allestimenti e le scenografie, senza dimenticare la possibilità di allestire cerimonie civili in loco.